Un compleanno, il 45esimo, vissuto tra l'assenza di novità sul piano clinico e la conferma di come l'affetto del popolo ferrarista nei confronti di Michael Schumacher si è rimasto immutato. Il mondo degli appassionati della rossa si è stretto accanto al campione in difficoltà per accompagnarlo in questa difficile fase della sua vita e fornire un contributo morale a lieto fine si spera di una vicenda assurda e drammatica. Intanto il campione tedesco ha trascorso un'altra giornata senza far registrare variazioni alle sue condizioni fisiche, una non notizia che così come nei giorni precedenti i medici dell'ospedale di Grenoble hanno interpretato in senso positivo. La situazione rimane grave e la domanda ricorrente che l'uomo della strada si pone riguarda non solo quante possibilità abbia Schumacher di uscire dal coma ma anche quali possano essere le conseguenze che lo accompagneranno per il resto della vita. Intanto sul fronte dell'inchiesta la procura di Albertville ha acquisito la telecamera fissata sul casco del campione tedesco durante la discesa sugli sci conclusasi con la caduta rovinosa su una roccia. Gli investigatori in queste ore stanno verificando l'eventuale funzionamento dello strumento al momento dell'impatto il che fornirebbe elementi oggettivi per avere un quadro preciso circa la dinamica dei fatti a proposito della quale ieri sono stati ascoltati anche il figlio di Schumacher Mick ed un suo amico. Si tenta insomma di capire quali siano state le reali cause di un incidente del quale secondo la stampa francese alcuni organi di informazione tedeschi avrebbero alcune foto finora non pubblicate. Si cerca giustamente la verità ma si spera molto più concretamente che per Michael si delinei al più presto il traguardo di una gara che mai avrebbe pensato di dover disputare.